Che troviamo? Direzione araba oppure se ci potiamo controllare. Direzione araba. Però ci dobbiamo fermare il suo bagno. Non riesce a resistere, pure io sto... Però se riuscire magari... No perché magari scendendo ci passa. Anche io sto... Mado, che cazzo di casino, guarda, ma... Questa è sciare, ragazzi. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.